Brutto giorno, ieri non sono riuscito a pubblicare il video, oggi ne pubblicherò due Ieri purtroppo è andata così, quindi oggi mi sono dato parecchio da fare finendo prima il video in sospeso e poi quello di quel giorno Con una pausa in mezzo chiamato GTA V, gratis su Epic Games, se non l'ho mai scaricato Avvio il gioco e ovviamente la prima cosa che faccio, come tutti quanti e il resto, è andare in uno strip club per vedere di che qualità fossero le texture dei corpi delle ballerine L'ho fatto per la scienza insomma, è arrivata l'ora di pranzo perché lo studio necessita di molto tempo E pranziamo con degli spaghetti aglio e olio rivisitati e dei Wust Wannabe con patate al forno, erano molto buone Mi metto a montare il secondo video fin quando decido di fare una pausa e mordiccare qualcosina a quella Neanche la grega del frisbee, comunque sono buone Decidiamo di trapiantare le piante che abbiamo comprato il giorno prima, ma notiamo che ci mancano terriccio e sassi Le andiamo così a comprare e ci rimettiamo subito al lavoro Ci sediamo a tavola e mi faccio spiegare dallo chef il menù di stasera Chef, ci dico qual è il menù di oggi Spaghetti, pomodoro, melanzane, zippa di spinaci, amici di spinaci, ovo e mojasio Mi scusi chef, posso scorreggiare prima? Sì, sì Grazie Insalata di cucumber Insalata di cucumber Chef, c'è puzza, chef Diversamente dagli altri giorni, oggi avevamo voglia di un po' di gelato E visto che di Reni ne abbiamo due a testa, abbiamo deciso di venderne uno per poterceli permettere E facevano pure schifo C'è delle palline, quando le mordi, frizzano in bocca, non so se sapete, avete capito Il gusto boi, è molto chimico Allora, c'è sempre il gusto delle calamene con moto da frutta Keep telling me how great I am